Ciao a tutti, allora, ci eravamo lasciati in questo scrittore di fammi laurea, e niente, si è trovato un libricino e noi si è, tra virgolette, ridotto e quello fossi il vero inizio di Joe, anche perché Thisland, a parte le apparizioni spontanee sulle holline, non mi sembra di anore, fra l'altro non trovo le pagine, le pagine vere proprio non ce ne sono state, queste cose tipo wanted, delle cose che si è ricercate. Mi sa che questo è l'inizio dei giochi. Oh, vabbè, mi sono in attire trippato, però, insomma, giochiamo, 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 giochiamo. Coricori, coricori, coricori… aiuto! Oh, ma paura! C'è quest'è, C porra! C'è qualcuno qui dietro? Entriamo in questa cascina? No, andiamo un po'. Ma te ce le volte è sempre lì. Giusto che si, no? lo scherzo si trovò l'altra volta ma qual è? quello dentro quella casa? si ma te lo sai ma che se hanno spegnato io? mamma mia che anzi ragazzi ma poi senti cargo exodus elman basta basta questo è un uomo non c'è nulla sai che in questa casa non c'è niente ma io vorrei che l'azzardo mi sembra molto simile a proprio quello del computer cioè se ti fossero anche di furgoncini o si vuol dire che è simile a quello del computer c'è una luce c'è una tenda e ho visto anche una luce in fondo andiamo un po' attorno alla tenda al solito è per attaccatelele eccola ecco il kit non cazzo ma leggi ma io scappo di giallo ma io scappo di giallo ma io non si può non si può un'altra pagina se quella è una pagina fa vedere hai ragione libermi allora lasciami da sotto se no devi andare ma cosa ti giri vai che lo trovi davanti ma non mi fanno vai giallo ma dai faccio un giallo a me fanno ma questa è una macchina è lì eh oh ma dai la smetti ma vai 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 no ti vuole riprendere everybody sings no 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 mamma mia eh qui ci sta il culo non vedo una sega ci vede in cazzo ma io davvero un pieno no vabbè aspetta dai vuoi da un po' se di qua questo cos'è oh c'è una luce questo giocchi magari la parte una mappina di eh oh una mappa dot look oltre non c'ho vuoi leggere vaffanculo sto cadendo addosso questa musina andiamo via comunque credo che sia tutte le zone predisposte eh ci sta cioè dove c'è qualcosa si non sto giocando oh c'è un'altra dov'è? qui un po' un po' ma non vedo un cazzo non vedo no devi tornare indietro stai tornando 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 indietro ma dove è lui? ma mi devi stare così ho un po' ora muoio no scusa dove è? non lo vedi? ma ti dai vedi? una ma donna gira fino a te ti dai ti dai ti dai ti dai dico però dai ma la luce lì è Gesù ma questa è questa luce lì? è questa luce lì? è questa luce lì? non si capisce la voglio la tua voglio la voglio la voglio la voglio lo drammatiziamo qualsiasi no è il peso di base? quattro qui? aio aio cosa c'è? clandestini no dove ero? no sorello è lì dietro mi mando via non fa facile no ma si ascolta oh no non so dov'è scusè si è tutte le osse le corumba non so di ma che cosa maremma ci ho preso ma non ne posso più oh mia mia ti levi di culo ma come ti giri qui no devo vedere questa testa bianca ragazza mamma mia ancora ancora non corre eccola eccola lì il pigio non leggo nemmeno sei 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 No, non ce n'è una, vero? Allora, ce n'è una, assurro? Non ce n'è una, ma ne pare sia già preso, via Perché, hai tensiono? Vai a destra, vai a destra Vai, va, 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 va Da! C'è un falò Lui è la tenda di prima, vediamo Che vecchie, pensa sia, no? Però, allora, se... Oh, ma io l'ho visto anche troppo L'hai visto? Si Allora, se... Ma come lui è stanco, eh Ma questo falso ha preso No, non ce n'ho mai visto Ti dai, vedi? Ma poi che stai alzata bianca Ma ti dico... Comunque... Dai, oh, ora basta, fammi prendere il falso Fala forte, prendere il spiatto Si Allora, tu volevo dimmi la saperla Comunque, si Si Le pagine si trovo in ogni, diciamo, zona più specifica Eh, c'è un furgone lì, c'è qualcosa Automattamente c'è anche la massina di prima Casina, spogliatore ve lo chiede Vabbè Eh, ora tornaci Tocchi e colavide Questa è lì? Eh, si Ma io devo entrare con lui e mi segue così Sì E' un pazzito Lui si... Lui si può entrare a me dentro No, qui si è già entrato a te Eh, si è entrato a te Pestata di... Che ansia, che ansia, che ansia È lì, è lì, è lì Ma la voglia di che entra? Ma merda Perché non è una merda Non c'è dietro Come fai a prendere? Storo, storo Eh, aspetta un po' Mamma mia Che occhio Ti sei guadagnato il giochi Ma fa... Esci di lì subito, vai Fa facile Non ti sei capace Se avverlo si muore Se avverlo si muore Se avverlo si muore Si sa come il corso Io non ce l'ho poi a inizia Trovo davanti Fa tranquillo Ma lasciatla trovare l'ultima L'ultima, dai, l'ultima Ma... Vai via, vai via Ma dove... Ma dove... Ma dove fa... Ma... Ma vai 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 Ma... Ma... Cazzo Eh... Cos'era oh Eh... Vi... la morte da parte ah di qua con la sua luce sleder e cronimo e ma non so dove si le manda piuttosto mo ma dovete manca così io nel video sono nero vai usci nero è vero beh ne manca una ce l'hai dietro ce l'hai dietro gring 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 non voglio andare mamma mia mamma mia che patimenti un bagno attenzione la pagina 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 è sparito la pagina la pagina al o a sono su r r sull'altro ma allora ci saranno diversi episodi forse lo so no mi dai addio no all'ascoltante in teoria arrivate nella mirada si è scaricata la pizza è vero scusa un po' ma non è siamo morti o no? non siamo dall'altra parte ma non c'è la macchina noi non c'è la macchina noi non c'è la macchina no ma questo deve essere in altri episodi se hai fatto episodi c'è episodi si è fatto a schier c'è una serie ma poi ti vedrai mi ricordo prima attimino prima di iniziare ce l'ha scritto stati gay per chiuscire se le action si vedi città ah poi si ci siamo arrivati vabbè comunque finiamo il secondo episodio vabbè anche se mamma è buio non si vede più passare aiutaci un po' tutto questo guarda faccio così se ci si vede più aspetta vai guarda che si fonde che si gioca si gioca comunque niente detto questo finisce di finisce di c'è del terzo il 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 terzo Grazie a tutti.